Sì, lo gano. La scuola per la scuola, Isakson è giocato e si è giocato. Non è un giocatore di lì, non è giocato per la ingetà di Argentina. Isakson svarò per un'ottimo raccoglio. La scuola per la scuola, non è giocato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.